Tra le aziende italiane qui presenti ad IFA, Puro è sicuramente una delle principali per quanto riguarda il mondo degli accessori e delle cover. Abbiamo uno stand veramente ricco, ricchissimo di proposte, dalla gamma Xperia alle proposte fashion per la moda, con marchi prestigiosi Giascavalli, oppure la serie Puro Glam o ancora Italia Independent che ci permette di avere altri marchi, altre collaborazioni con importanti brand appunto della moda. E tutta una serie di cover, custodi, accessori, power bank che permettono di espandere un po' quello che è l'accessoristica per il nostro dispositivo. Molto bene anche la parte sport e sound, come viene chiamata da Puro, nuovi packaging e molto carine queste safety band, in questo caso è una fascia da braccio o da scarpa che permettono praticamente a chi va a correre magari la mattina presto o la notte di avere qualcosa di luminoso per non rischiare di essere arrotato. Tutta la gamma dei nuovi fast charge che permettono di caricare più velocemente lo smartphone, con anche le power bank sempre fast charge, ma in realtà le novità forse ancora più interessanti le troviamo all'interno dove si sa che Apple un po' monopolizza il mercato degli accessori e Apple Watch ne è una di prova. Tanti sono i prodotti che vedete qua per tenere sulla schivania il nostro Apple Watch o carine anche queste specie di bumper che sono appunto realizzate proprio per Apple Watch, in questo caso trasparente, ma ci sono anche colorate, rosina, celeste o addirittura ce n'era una che non trovo più però che è rugged, quindi ci permette di avere una sorta di sicurezza maggiore per quanto riguarda la resistenza agli urti. Ci sono queste basette con anche USB a seconda di quello che sceglierete e bumper case anche super resistenti, qui in questo caso per iPhone non resistenti all'acqua ma super resistenti o queste qua invece per moto resistenti all'acqua. Ci sono poi cavetti da USB Type-C a USB ma soprattutto possiamo vedere le dimensioni del nuovo che è indubbiamente piuttosto grande. Con lo stand puro siamo più o meno a fine, c'è ancora la nuova collezione che arriverà a questo inverno di Tile Independent che è abbinata alla linea degli occhiali, quindi in questo caso l'occhiale, la custodia per iPhone 6 e 6S, di nuovo qua le varianti cromatiche e la collezione un po' più umilitare che arriveranno proprio tra pochi mesi. Poi chiaramente selfie stick, molto belli materiali, cambiano molto, qui è una specie di moquette vellutata, jeans appunto, gomma, però insomma teletextus molto molto buone. Con questo anteprima panoramiche è tutto, non resta che guardare l'articolo dedicato a questo video. Ciao!